E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Ed eccoci qui con un action figure del 2018 per la linea Midcloth di Bandai, abbiamo tra noi Ikki Fenix Revival, ovvero praticamente la ristampa della prima versione di Ikki. Eccolo qui nella sua confezione ragazzi, sempre lo solito stile di queste confezioni dei Midcloth, veramente molto figa a mo' di contenitore dell'armatura, qui vediamo il simbolo della Fenice, sulla parte superiore vediamo questo simbolo, qui sul lato vediamo un'immagine della nostra figure con la costellazione della Fenice alle spalle e sul retro vediamo un po' di pose veramente fighe della nostra figure. Questa qui è la parte inferiore, ragazzi purtroppo questa figure non è più disponibile nel mio negozio perché questi cavalieri stanno andando esauriti subito, quindi per i prossimi andrebbero prenotati per forza in preordine, perché altrimenti dopo è molto difficile recuperarli. Comunque direi di non perdere altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere il nostro cavaliere fuori da essa. Oh ed eccoci qui con tutto il contenuto della confezione, devo dire che questo sfondo si addice particolarmente a queste recensioni sui cavalieri dello zodiaco. Comunque andiamo a vedere prima di tutto gli accessori da cui è accompagnato il nostro icchi, abbiamo un po' di mani intercambiabili, queste due qui vedete con il palmo aperto in questo modo molto ben realizzate, qui c'è il painting metallizzato naturalmente e qui ci sono le fessure per poter inserire i plate dell'armatura. Ecco qua le prime, veramente fighissimo questo painting, per il resto abbiamo questa mano singola che dovrebbe essere quella per la mossa del fantasma diabolico con il dito indice alzato in questo modo, abbiamo anche queste due mani qui con il palmo aperto in questo modo per qualche posa dinamica, poi ci sono queste due qui invece per impugnare un qualcosa, magari qualche arma data dal cavaliere della bilancia, perché no? E ultime ma non ultime abbiamo queste due qui chiuse a pugno, naturalmente questi plate si possono rimuovere e mettere nelle altre mani che ne hanno bisogno eventualmente. Per il resto abbiamo queste parti di capelli che servono quando il nostro fenix ha il casco sopra, quindi si inseriscono questi piccoli ciuffetti che spuntano dal casco. Per concludere abbiamo due visi intercambiabili, questo qui è il primo che ha una specie di sorrisetto, eccolo qui molto ben fatto, vedete c'è anche la cicatrice caratteristica del nostro fenix. E poi abbiamo il viso urlante, anche questo molto molto ben realizzato, un painting pulito e precisissimo. Ora ragazzi vediamo prima la nostra figure senza armatura, lì c'è il totem appunto creato con l'armatura, lo vedremo tra poco. Comunque questo qui è il viso base di fenix, questa qui è la testa diciamo senza casco, vedete con tutti i capelli, ovviamente è impossibile inserire il casco in questa testa, per quello servono tutti quei ciuffetti che abbiamo visto prima. Comunque molto ben realizzato, mi piace un sacco tutta la forma dei capelli che hanno dato. Questo qui è un body non ex, è un body prima versione, questa è una ristampa praticamente della prima versione. E questo qui appunto è il nostro cavaliere senza armatura che ovviamente lascia sempre il tempo che trova, difficilmente troverete qualcuno che espone il cavaliere in questo modo e poi il totem. Al massimo si prende la seconda copia e si espone il cavaliere con l'armatura più il totem sempre con l'armatura. Comunque queste qui sono le gambe e poi abbiamo naturalmente i piedi qui che sono in metallo e danno una certa stabilità alla nostra figure. Vediamo le articolazioni adesso già che ci siamo, abbiamo la rotazione qui al collo, la testa naturalmente può ruotare lateralmente, può muoversi in avanti e indietro in questo modo. Il braccio può alzarsi a più di 90 gradi senza alcun tipo di problema, ha una sfera vedete all'interno, c'è la rotazione a 360 gradi, può andare anche in avanti e all'indietro, un'ottima articolazione. Rotazione al bicipite, doppia articolazione qui al gomito, piegamento qui al polso e rotazione al polso. A mezzo al busto c'è la sfera per mettere questo tipo di movimento in avanti e indietro o anche laterale, c'è la rotazione, rotazione qui alla vita, movimento anche a sfera qui alla vita in avanti e indietro e anche laterale. Qui alle gambe abbiamo il movimento in avanti quasi a 90 gradi, movimento all'indietro un po' limitato dallo scalp, l'apertura laterale quasi massima, rotazione qui alla parte superiore, doppia articolazione qui al ginocchio, rotazione alla parte superiore del piede, piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù in questo modo, rotazione laterale della caviglia in questo modo, sia all'interno e anche verso l'esterno volendo. E poi abbiamo anche il piegamento qui alla punta del piede, molto molto efficace. E ora ragazzi diamo uno sguardo al totem, io ho sempre adorato questa possibilità che hanno questi meat cloth di poter appunto costruire il totem vero e proprio con la loro armatura, questo qui naturalmente il totem della fenice. Questi sono tutti i pezzi dell'armatura inseriti appunto sullo scheletro del totem, si può dire così, ed è veramente una figata ragazzi. La cosa che mi è piaciuta di più costruendo questo totem e il casco guardate qui è che si spezza a metà, un pezzo va qui e un altro pezzo va qui, veramente una genialata. Qui si possono appunto intravedere tutti i pezzi, qui c'è un pezzo dell'avambraccio, un pezzo della gamba e qui c'è naturalmente il torace dell'armatura con tutte le code della fenice. Le ali anche sono veramente fantasie con questo painting dorato. Ma ragazzi è giunto finalmente il momento di vestire il nostro fenice della sua armatura. Ed ecco qua il nostro Ikki con l'armatura della fenice, guardate che spettacolo. Ovviamente le ali sono un pezzo in più, regolarmente non le ha sull'armatura, però io le ho messe perché si può fare e mi piace veramente tantissimo come sta. Andiamo a vedere più nel dettaglio, guardate come sbrilluccica il dorato e anche l'argento dell'armatura. L'armatura è fatta per la maggior parte in metallo ragazzi. I pezzi non in metallo sono le spalline e il casco praticamente. Il gonnellino ha qualche parte in plastica per non appesantirlo troppo, però per il resto è tutto metallo, tranne questa parte qui anteriore dell'armatura del busto. E ovviamente le ali non sono in metallo, altrimenti sarebbe troppo troppo pesante. Però ragazzi l'armatura è stata realizzata veramente benissimo, il painting cromato è praticamente perfetto. Mi è sempre piaciuto un sacco questo contrasto di colori che ha l'armatura di Fenix con questo fucsia intervallato all'argento e al dorato. Vediamo anche la parte delle gambe, anche queste molto ben realizzate devo dire. Si sposa tutto alla perfezione, lo vediamo anche sul retro, qui ci sono naturalmente le code della Fenix e qui si può vedere il mio viso anche sulle ali. Vediamo che spuntano i capelli da sotto all'elmo, queste code della Fenix sono posabili in questo modo. E l'altra cosa che naturalmente è posabile dell'armatura sono le spalline che si possono muovere leggermente in questo modo qui. E poi naturalmente anche il gonnellino si può aprire in questo modo, anche questa parte si può alzare per permettere alle gambe di muoversi. E allora ragazzi abbiamo iniziato questa nuova avventura dei Cavalieri dello Zodiego sul canale, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Fenix Revival con un commento qui sotto. Lasciate il like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete anche condividerlo. Purtroppo ragazzi come ho detto all'inizio questa figure non è più disponibile nel mio negozio perché è esaurita. Questi Cavalieri ragazzi vanno preordinati necessariamente. Un avviso per i prossimi due che saranno Sirio e Crystal, se li volete ragazzi dovete assolutamente prenotarli perché sono andati tutti esauriti. Comunque grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima, ciao Dara da Fenix Revival e collezionate sempre! Grazie a tutti per la visione!